Ben trovati dalla redazione di Radio Bari e Tele Bari. In apertura il delitto Scani, colpo di scena sul giallo del fotografo barese è trovato cadavere nel suo studio di via Crisanzio il 22 agosto scorso. Fermato dai carabinieri il figlio Nicola, presunto responsabile dell'omicidio Cristina Ferrini. E' accusato di omicidio volontario. Sarebbe stato lui a uccidere il fotografo nel suo studio di via Crisanzio, ma fu anche lui a trovare il corpo del genitore con il cranio fracassato e a denunciare tutto ai carabinieri. Troppe lacune e contraddizioni nel suo racconto, al punto da convincere gli inquirenti a far ricadere su di lui la pesante accusa di omicidio volontario. E' stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria su ordine della procura di Bari. Nicola Scani, figlio del fotografo Mario Scani, 66 anni, molto conosciuto nell'ambiente universitario, ucciso brutalmente nel suo studio la domenica mattina del 22 agosto. Sarebbe stato proprio il figlio Nicola, quarantenni, al termine di una lite violenta, a uccidere il padre con un tubo, forse un cavalletto fotografico, infierendo sul suo cranio. Mortali sarebbero stati cinque colpi alla nuca, inferti con un oggetto cilindrico che non è più stato ritrovato. All'origine dell'omicidio ci sarebbero motivi familiari, forse di natura economica. Secondo gli investigatori i rapporti tra padre e figlio erano deteriorati da tempo. Alla base ci sarebbero sia motivazioni di carattere economico, sia di convivenza forzata e non più tollerata fra la vittima e la convivente del figlio. Tant'è che Mario Scani aveva deciso di andare a vivere altrove. Problemi familiari che Nicola Scani ha pensato di risolvere una volta per tutte, uccidendo il padre ed ereditando i suoi averi. Ancora cronaca, un giovane barese è stato aggredito e rapinato ieri a Rione San Paolo da due individui armati a volto coperto. È accaduto in via Miglionico. Secondo quanto riferito dagli agenti di polizia, il 23enne sarebbe stato raggiunto alle spalle dai due a bordo di uno scooter. Strattonato e minacciato con una pistola avrebbe consegnato loro un orologio marca Rolex e un braccialetto d'oro. I due si sarebbero poi dileguati per le vie adiacenti. Cambiamo argomento. Dopo il caro trasporto scolastico, dall'anno prossimo aumenteranno anche le tariffe per usufruire del servizio mensa, ma solo per le famiglie più facoltose. Ce ne parla Silvia Di Pinto. 1,50 euro in più per ogni pasto nelle mense scolastiche, ma solo per gli alunni con famiglie da reddito superiore ai 40.000 euro annui. Dopo l'aumento sul servizio di trasporto scolastico, da gennaio prossimo il ticket per le mense passerà da 3,50 a 5 euro per i bambini considerati più facoltosi. Possono tirare invece un sospiro di sollievo le famiglie in fascia ise inferiore a 6.000 euro annui. I bambini continueranno a mangiare gratis. In questo caso le tariffe entreranno in vigore con il nuovo affidamento del servizio che prevediamo possa partire intorno a gennaio. Per cui in questo momento le tariffe rimangono immutate rispetto all'anno scorso, così come rimane immutato il servizio. Chiederemo alle famiglie che dispongono di un reddito cospicuo, sopra i 40.000 euro di reddito ise, di pagare integralmente il servizio. 200 nuovi insegnanti di sostegno inarrivano alle scuole di Bari e provincia per tamponare l'emergenza provocata dai tagli della riforma. Gelmini, il servizio di Mirko Cafor. L'ufficio scolastico provinciale ha lavoro per fronteggiare l'emergenza a professori di sostegno venutasi a creare nelle scuole baresi. Sono circa 350 infatti i posti rimasti vacanti a causa dei tagli prodotti dalla riforma Gelmini. Un'emergenza che sarà tamponata con i 200 insegnanti assegnati in deroga dal ministero alla sola provincia di Bari e che saranno distribuiti nei prossimi giorni tra i vari livelli di istruzione dalla scuola materna alla media superiore, dando precedenza agli studenti con disabilità che necessitano modalità di insegnamento uno a uno. A darne notizia, questa mattina il provveditore agli studi Giovanni Lacoppolo ha intervenuto nel corso della trasmissione B&G. Io mi auguro di coprire su tutto il territorio con questi 200 posti. Poi qui c'è anche la sensibilità del nostro direttore regionale il quale mi ha detto vai avanti, se nelle altre province risparmieranno i posti in deroga delle altre province verranno assegnate al mio ufficio. Ma il supporto dell'ufficio scolastico regionale non è considerato sufficiente dal provveditore a risolvere definitivamente l'emergenza. E' per questo che il professor Lacoppolo ha proprio i microfoni della nostra trasmissione di Radio Bari e Tele Bari ha colto l'occasione per richiamare a gran voce l'intervento della regione e dell'assessore a ramo Alba Sasso. Io mi rivolgo pubblicamente attraverso la vostra radio alla regione Puglia, all'assessore a Sasso. Non si deve soltanto pensare ai precari di lettere, di matematica e dei bidelli. I 25 milioni di euro che loro devono assegnare con il progetto loro alle scuole è bene che inseriscano anche i docenti quest'anno di sostegno. Sanità prove di dialogo fra il presidente della regione Puglia, Nichi Vendola, il ministro all'economia Giulio Tremonti, a margine dei lavori in corso alla Camera. Tremonti riferisce Vendola, ha detto che dobbiamo parlarci e che non ci sono né fatti personali né fatti politici. Il ministro ha detto che il suo obiettivo sono i conti della regione, ma io ho lo stesso obiettivo. Vendola ha poi evidenziato le performance straordinarie dei conti della regione. Moody's ha confermato per la Puglia il rating più alto tra le regioni del centro-sud. Il debito storico è passato da 3 a 1,5 miliardi di euro. Un numero verde a disposizione dei cittadini. Il Comune di Bari fa un bilancio del pronto intervento sociale, avvia altri servizi e chiede integrazione sui finanziamenti sul sociale. Alessandra Lofino Povertà e disagi. Per fronteggiarli il Comune di Bari mette a disposizione un numero verde, completamente gratuito e a disposizione della cittadinanza, che voglia anche solo avere consulenze e consigli. 800-09-3470. Il pronto intervento sociale fa un passo avanti. Avvia i contatti con la ASL per integrare il lavoro con il 118 e guardie mediche per l'assistenza soprattutto agli adolescenti e alle donne deboli. Oggi a Palazzo di Città la presentazione dei dati del pronto intervento sociale in città, dati che testimoniano l'esigenza di persone in difficoltà. Tante le chiamate e le segnalazioni ad un'equip che garantisce il servizio 24 ore su 24. A seguire il servizio un giovane medico, Marcello Signorile, dimostratosi sensibile a problematiche che riguardano le città. Ieri un incontro al Ministero, al quale ha partecipato l'assessore alle politiche sociali, Ludovico Abaticchio, il rischio di perdere fondi per il sociale è alto. Come intervenire? Sì, siamo molto preoccupati perché è chiaro che i tagli sul sociale e sulla cultura ministeriali daranno dei grossi rimbalzi negativi sui comuni, in particolare sulle città capoluogo. Si rischia per esempio di passare da un finanziamento nazionale del welfare di 700 milioni di euro a 200 milioni, per cui è importante che i comuni si attrezzino con le altre istituzioni, con la provincia, con la regione e anche con il mondo delle istituzioni, il mondo cattolico, affinché si realizzano dei progetti obiettivi con il coordinamento per esempio della prefettura per quanto riguarda i temi dell'emergenza sociale, della povertà. Voltiamo pagina a far nascere uno sportello della provincia di Bari nella contea a Dambovita è uno sportello rumeno nel capoluogo e l'obiettivo del protocollo di intesa siglato nel 2005 fra la provincia di Bari e la città rumena è ripreso oggi nel corso di un incontro tra il presidente della provincia di Bari, Francesco Scrittulli e il presidente del consiglio della contea a Dambovita, Florin Popescu, accompagnato da una delegazione rumena. Il fine è quello di sviluppare fra i due paesi un rapporto di collaborazione in campo economico, culturale e turistico. Oggi la Polizia di Stato festeggia il patrono del corpo San Michele Arcangelo. Questa mattina a Bari una messa in cattedrale presieduta dal vescovo di Molfetta Luigi Martella e concelebrata dall'assistente spirituale della Polizia di Stato Don Corrado Germinario. Presente alla cerimonia il questore di Bari, il dottor Giorgio Manari con dirigenti e personale delle varie specialità della Polizia di Stato. Far conoscere il brand Puglia in Europa attraverso la musica elettronica. Questa è la mission di Quick European Club Parade, un progetto patrocinato da PT Regione Puglia, Provincia e Comune di Bari, che nei prossimi sei mesi porterà DJ pugliesi nei migliori club di Barcellona, Berlino, Copenaghen, Vienna e Lione. La città di Bari ospiterà inoltre affermati artisti della scena internazionale, che potranno così dialogare con i talenti della nostra terra. L'inaugurazione del progetto sabato 2 ottobre nel locale H25. È rimasto aperto al pubblico fino alle 23 di ieri sera il Castello Svevo di Bari, in occasione del primo martedì in arte. L'iniziativa, che rientra nel progetto delle aperture straordinarie del Ministero per i beni e le attività culturali, prevede l'apertura prolungata negli ultimi martedì del mese, fino a dicembre in alcuni musei, siti monumentali e aree archeologiche. Oltre alla visita del monumento, che comprende la fase normanno-sveva, angioina e aragonese, è compresa l'illustrazione nella sala sveva delle vetrine, che mostrano la ceramica medievale rinascimentale. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Cielo generalmente sereno, temperature con valori compresi tra i 14 e i 21 gradi. Venti deboli di direzione variabile, mari poco mossi. Vi ricordo i nostri siti internet.